Spesso, magari quando si scende di categoria, si viene un po' con la puzza sotto il naso, io lo dico da romano. Però sarebbe un errore grande perché comunque ogni categoria ha le sue insidie. È pur vero che in questo momento della stagione stiamo dimostrando di essere come Trapani una squadra nettamente superiore alle altre, però mancano ancora tante partite e questo per me che sono arrivato da poco è una motivazione in più per poter dare il mio contributo. E sono contento perché credo di essere arrivato in una società ambiziosa che ha un progetto a lungo termine e soprattutto sono contento perché ho trovato dei ragazzi che mi hanno accolto nel modo giusto. Come da inizio anno siamo tanti, abbiamo sempre ruotato e quindi io sono contento del mio ruolo nella squadra perché comunque siamo tutti uniti verso un obiettivo, quindi quello che importa poi è l'obiettivo finale, non quello personale, magari di giocare tutte le partite, quindi la scelta del mister è questa e io mi adeguo. Sulla disposizione della San Cataldese sì, ci aspettavamo un altro modulo, loro hanno fatto un 4-4-2, quindi creavano più densità centrale, avevamo preparato la partita dove io e Marco comunque andavamo in zona tre quarti e poi ci siamo resi conto che potevamo essere più pericolosi sulle fasce appena abbiamo sistemato un attimo poi siamo andati bene.